Buonasera a tutti, sono Andrea Degli Innocenti, sono un giornalista, autore del libro Islanda Chiama Italia e uno dei fondatori del progetto Italia che cambia. Innanzitutto grazie per l'invito e anche complimenti per l'iniziativa perché parla di un argomento di cui si parla molto poco ma che è di estrema attualità e che sicuramente va a colpire uno dei punti più problematici di questo sistema, di questa società moderna che è l'emissione del denaro. In questo intervento che cercherò di mantenere piuttosto breve perché è sempre difficile parlare in una webcam senza vedere le persone in faccia, vorrei raccontare in breve quello che sta succedendo in Islanda relativamente alle leggi che regolano l'emissione del denaro perché sta succedendo qualcosa di molto simile all'iniziativa svizzera e vorrei raccontare anche quello che però sta succedendo anche in Italia perché appunto come giornalista d'Italia che cambia ho un contatto abbastanza quotidiano e diretto con tutte le realtà alternative italiane che comunque quotidianamente portano avanti un cambiamento importante anche nel nostro paese. In Islanda, in Islanda sta succedendo che a partire dal fine marzo 2015 in Parlamento il partito di governo che comunque è un partito di destra liberale, liberista, quindi sicuramente non un partito rivoluzionario e che però sta facendo importanti riforme per quanto riguarda l'economia finanziaria e l'ingerenza della finanza sul sistema economico, sociale e politico islandese, ha proposto di creare una commissione parlamentare che va a analizzare proprio il metodo di emissione del denaro. In cosa consiste questa riforma, questa proposta? In pratica consiste nel fatto di vietare alle banche e di permettere solo alla banca centrale di creare denaro. Le banche in questo caso avrebbero il compito di decidere a chi prestare denaro, per cui verrebbero scorporati i due compiti che oggi rivestono tutte le banche, che sono quello di creazione di denaro e di prestito di denaro. Chi crea il denaro non è nello stesso soggetto che poi decide a chi prestare il denaro. E questa cosa va a intaccare appunto ad esempio il meccanismo della riserva frazionaria su cui si basa l'economia delle banche moderne e che permette ad esempio alle banche di creare soldi nel momento in cui ad esempio accendono un mutuo o fanno un prestito. Questa proposta appunto che è in questo momento soggetto di una commissione parlamentare non è ancora diventata un disegno di legge vero e proprio, dovrebbe diventarlo a breve e penso a un'opinione personale che abbia anche discrete possibilità di essere approvata vista appunto la sensibilità comunque del governo islandese e della popolazione islandese ancora di più alle tematiche relative alla finanza, proprio perché ci sono rimasti particolarmente scottati con la crisi del 2008. Ciò nonostante, nel senso, sperando, aspettando che provvedimenti simili vengano adottati anche dal nostro Parlamento, un'attesa che però potrebbe essere tipo quella di Godot, non è detto che non si possano fare tante cose anche qui in Italia. Ad esempio, girando, mi sono accorto, ci siamo accorti con i miei colleghi di Italia che cambia, che già oggi in Italia esistono tanti modi per arginare lo strapotere dell'economia finanziaria sulla nostra vita. vi vorrei fare tre esempi, i primi due probabilmente li conoscete già, il terzo è un po' più particolare. I primi due sono due realtà che conosco, che ho conosciuto e che conosco abbastanza da vicino e che sono Archipelago Shek e il Sardex, con tutti poi i suoi figli che sono nati. Archipelago Shek è un acronimo che sta per solidarietà che cammina, Shek, ed è un buono, nel senso che fiscalmente funziona come un buono, di proprietà del portatore, cosa che lo distingue da, ad esempio, l'euro, gran parte delle monete circolanti, e che chi aderisce al circuito decide, diciamo, gli esercenti, i negozianti che aderiscono al circuito, decidono di accettare in una percentuale del prezzo del prodotto. Questo fa sì che se io ad esempio vado a fare la spesa da un fruttivendolo, un ortolano che accetta gli Shek, io invece di pagare 20 euro, pago 18 euro di Shek, oppure 15 euro e 5 Shek, a seconda della percentuale accettata. Se vado da, non lo so, una cartoleria che accetta gli Shek, stesso discorso, e la cosa interessante è che non solo io avendo gli Shek tenderò a fare più la spesa, a comprare più le cose di cui ho bisogno in luoghi che li accettano e quindi anche che si riconoscono con alcuni valori etici, ma anche che questo circuito che si viene a creare, perché poi il negoziante rispenderà i suoi Shek da un altro negoziante e così via, questo circuito che si viene a creare non fa circolare solo gli Shek, ma ha ancora anche una percentuale che è dell'80, 90, 70% di euro, che invece di finire in circuiti globali, finanziari, eccetera, restano ancorati all'economia locale. Ed è una cosa quindi che ha una portata molto molto più ampia di quello che si percepisce utilizzandoli, perché poi è uno strumento facilissimo da utilizzare. Altro strumento che ha avuto una grossa espansione negli ultimi tempi è stato il Sardex, inventato dai ragazzi sardi, che funziona in maniera un po' diversa, nel senso funziona come una camera di compensazione per aziende, per cui ad esempio se io ho un un... faccio il parrucchiere, o faccio ad esempio l'albergatore ed ho delle camere libere che so che non mi verranno affittate, perché ho stimo che mediamente mi restino sempre due camere libere, le metto a disposizione in Sardex invece che in euro. Chi aderisce al circuito e ha dei crediti Sardex può venire da me e comprare quelle camere in Sardex, io avrò un credito Sardex che posso rispendere in altre attività che aderiscono al circuito. Questo meccanismo, che è abbastanza semplice anche questo, in realtà sta funzionando tantissimo, solo in Sardegna ci sono adesso più di 3.000 aziende che aderiscono a questo circuito, è stato transato lo scorso anno, nel dicembre 2015, il... se non sbaglio... il primo milione di Sardex, non vorrei dire vado a memoria, comunque insomma sta funzionando molto molto bene e si è replicato in varie parti d'Italia, per cui dopo il Sardex sono nati il Tibex, il Piemex, il Liberex, il Markex, insomma stanno nascendo in tantissime regioni d'Italia. E questo è un sintomo che comunque si stanno sviluppando tante alternative alla possibilità ristretta di prendere dei presti in banca, perché tutto questo meccanismo, tutta questa iniziativa del Sardex nasce proprio dalla consapevolezza che il problema economico principale, attuale, non è tanto la mancanza della possibilità di produrre beni e servizi, ma la mancanza di liquidità, ovvero le banche che non concedono presti. Col Sardex e tutti strumenti simili si risolve questo problema. La terza esperienza che vi vorrei raccontare e di cui ho avuto un'esperienza diretta e ce l'ho quasi quotidianamente, e che è forse lo strumento più rivoluzionario e più potente per contrastare quella che è l'economia finanziarizzata globale, sono le relazioni umane. Sembra una battuta, ma in realtà è veramente così, nel senso che mi sono accorto, ma è abbastanza intuitivo, che laddove nei contesti in cui ci sono relazioni umane più sviluppate, più soddisfacenti dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo, l'importanza del denaro diventa molto molto minore. Cerco di spiegarmi. Viviamo in una società in cui ci viene detto che ogni cosa, perché questo sistema funzioni, ogni cosa, sempre più cose devono essere oggetto di transazioni di denaro. Qualsiasi scambio fra persone deve essere compensato da uno scambio di denaro. E questo perché? Perché è una società dominata dall'economia. E l'individualismo è molto funzionale a questo tipo di società, proprio perché più io sono solo, più non ho persone a cui chiedere favori, prestiti, con cui scambiare cose, più dovrò comprare cose per me. Un tempo dieci contadini avevano un solo trattore perché poi non gli serviva mai tutti insieme, oggi magari ogni contadino compra il suo trattore. Questo ovviamente ti fa diventare insostenibile la tua attività, però fa muovere l'economia, fa funzionare l'economia. Il punto di tutto questo è che quindi siamo noi a scegliere quale ruolo diamo all'economia, quale ruolo, quale cose decidiamo di fargli regolare e quali no. Ci sono cose che sicuramente o molto probabilmente non riusciremo ad autoprodurre o a scambiare con altre persone, che quindi comunque dovremmo comprare. Però ci sono tante cose per cui possiamo decidere che non vengono regolate dall'economia. E più riusciamo a avere relazioni soddisfacenti con chi ci vive intorno, con chi ci sta vicino, e meno abbiamo bisogno del ruolo predominante dell'economia nelle nostre vite. È una cosa che sembra banale, ma è una cosa che può fare una differenza veramente veramente enorme. Anche perché normalmente siamo abituati a subire passivamente, sentiamo l'economia internazionale, tutto questo ammasso complesso e ingarbugliato fatto di finanza impazzita, di derivati, di cose che neanche riusciamo a comprendere come qualcosa che ci sovrasta e contro cui non possiamo fare niente. Se ci accorgiamo che siamo noi ad assegnargli quel ruolo, anche in qualche modo ad autorizzarli a svolgere quel ruolo, sappiamo anche che in qualsiasi momento possiamo trarcene indietro. Vorrei chiudere questo video messaggio ricordandovi che dovreste trovare in sala dei volantini di un'iniziativa che facciamo come Italia che cambia, che si chiama la campagna dell'1% e in cui chiediamo alle persone di sostenerci donando l'1% del proprio stipendio o del proprio tempo a Italia che cambia per far parte di una community che si attiva e cerca di cambiare le cose. Noi suggeriamo suggeriremo dei modi, tanti altri li possiamo trovare insieme però ecco diciamo il nostro messaggio è proprio quello che ci sono tante cose che si possono fare già ora, già a partire adesso senza aspettare che qualcuno venga a salvarci dall'alto. Buona serata a tutti e ciao e grazie ancora.